ma viveva. Sui lineamenti scarni serpeggiava un fremito che scendeva fino alle guance. Quanti anni aveva quel vecchio avvolto in una coperta sporca? Da dove veniva? Che razza di vita aveva avuto? Il tempo si era accanito sui suoi lineamenti, tanto che non si potevano leggere i segni del tempo. Prima di dimenticare tutto, a qualcuno aveva detto che era andato da un estremo all'altro dell'Italia come venditore di diversi prodotti, che non c'era cittadino o borgo per quanto sperduto che egli non avesse visitato. Adesso che viveva a fare? Commento. Adesso il vecchio venditore non era consapevole di avere un corpo fisico, ma viveva nel piano astrale dove continuava ad evolvere. Privandolo del corpo fisico si sarebbe interrotta la sua evoluzione.